Castelfidardo a forza 4 nella prima gara della sua quarta stagione di Serie D, traumatico l'esordio assoluto in categoria per i nero stellati di Pratola Peligna. Ricomincia il campionato, si riaccende la passione, riprendono le emozioni e si spera di soffrire di meno in questo campionato al Galileo Mancini, tana dei fisarmonicisti. Ci si augura, dopo tre anni di salvezza sul fil di lana, una crescita sportiva della squadra biancoverde. La società fidardense ha rivoluzionato la squadra dello scorso anno, confermando pochi elementi della stagione passata e rinnovando l'ossatura della prima squadra a partire dalla guida tecnica affidata a Roberto Vagnoni. Al suono della campanella del primo giorno di scuola, nella patria della fisarmonica, arriva una primizia assoluta nel panorama della Serie D. I nero stellati di Pratola Peligna, l'Aquila. Gli abruzzesi che ad aprile hanno vinto l'eccellenza quasi all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato, battendo a Lezio Ricci il capistrello, arrivano in Serie D in punta di piedi, ma con tanta voglia di fare bene. E il recente passato li aiuta, dato che anche per mezzo dell'acquisto del titolo sportivo di un'altra squadra, sono passati in tre anni dalla terza categoria alla Serie D. Entusiasmo alle stelle al Galileo Mancini, gremito di pubblico come di consuetudine, con una folta rappresentanza ospite e con gli ultras locali sempre dodicesimo uomo in campo. Tante facce note di addetti ai lavori in tribuna, mancano Pacella e Cicconi tra gli ospiti, Giovagnoli tra i locali, squalificato per due giornate. Vediamo allora come è andata tra Castelfidardo e Nero Stellati. Un match che è partito fortissimo fin da subito, tant'è vero che non passano nemmeno due minuti di gioco e arriva il gol più veloce della giornata del girone F di Serie D ed è gol ospite. Puglielli dalla trequarti vede libero in area di Ruocco che si coordina bene e al volo fa secco all'angolino selvaggio che può solo raccogliere in fondo al sacco. Due minuti di gioco, Castelfidardo 0, Nero Stellati 1, Rosario di Ruocco. Il gol ospite è un colpo alla bocca dello stomaco per i locali che però non battono ciglio, anzi iniziano a macinare gioco ed è anche un bel gioco, veloce, arioso, corale, con inserimenti laterali e soprattutto con pochi tocchi di palla. Al quarto Minella cade in area nero stellata, a tutti in diretta sembra rigore, il VAR in Serie D non c'è e così Galipò di Firenze dice che si può continuare. Dopo un cross dalla trequarti di Bordi su cui Mihailov arriva con un soffio di ritardo si rifanno vivi in avanti gli ospiti ed è bravo selvaggio ad anticipare la possibile conclusione di Isotti. Ventesimo bello schema da calcio d'angolo dei Biancoverdi, Pigini è sfortunato nel rimpallo, corrono tanto i padroni di casa, il gioco sulle fasce è fluido, la squadra si aiuta l'un l'altro e il possesso di palla è Biancoverde, così come la partita, nonostante il parziale di svantaggio. Venticinquesimo Minella si divora un gol fatto, Mihailov dal limite si gira bene e c'entra il palo, Minella a porta vuota non inquadra lo specchio, ma che occasione. Ventisettesimo minuto, Vagnoni non perde tempo e corre ai ripari, esce Mantini ed entra Montagnoli che sarà l'arma in più dei padroni di casa e infatti otto minuti dopo il Castello pareggia e Minella si prende la sua bella rivincita. Cross di bordi per Trillini, riceve Montagnoli sulla sinistra, assist per Minella che insacca rasoterra con il portiere in uscita. Castelfidardo 1, Nero Stellati 1, Santiago Minella. In chiusura di tempo Giovagnoli va vicino alla rete del vantaggio, ma lo shoot del giovane Anconetano è fuori di poco. Uno a uno al termine della prima frazione di gioco, i padroni di casa per impegno e gioco meriterebbero l'applauso del pubblico, anche per aver raddrizzato l'iniziale svantaggio. Nella ripresa si va al Luna Park con una girandola di reti che vede protagonista il centravanti locale nel Santiago Minella Show, ma prima c'è da aspettare. Infatti dopo sette minuti di inizio di ripresa i biancoverdi sono di nuovo sotto. Uscita alta di selvaggio che frana addosso a un avversario. Galipò, tra lo stupore del pubblico, assegna la massima punizione ai Nero Stellati, che di Ruocco trasforma per il vantaggio degli ospiti sui locali. Quarto della ripresa, Castelfidardo 1, Nero Stellati 2, ancora Rosario di Ruocco. Doppietta per lui. Ma anche stavolta il Castello non si disunisce, ma rischia il tracollo al sesto. Punizione dal limite dell'area di Vitone, palla che si stampa sulla traversa nonostante l'intervento di Selvaggio. Poi Lispi libera la sua area, ma che paura. Altri due minuti, altro giro e altro penalty. Stavolta a favore del Castelfidardo. Trillini viene messo giù da Di Cicco in area di rigore ospite. Per Galipò è ancora calcio di rigore, che Minella trasforma di freddezza spiazzando Parente. Pertanto Castelfidardo 2, Nero Stellati 2, Santiago Minella. Ma non finisce qui la giornata di grazia e di gloria del bomber biancoverde, perché al dodicesimo l'argentino scavalca con un prezioso sombrero l'estremo ospite e deposita in fondo al sacco la terza rete castellana. Castelfidardo 3, Nero Stellati 2, San Santiago Minella. Tripletta per lui, ma la difesa ospite che combina? L'argentino avrebbe addirittura altre due chance per arrotondare il bottino, ma da buona posizione. In entrambi i casi le sciupa sparando addosso al portiere ospite. E poi ancora Minella, stavolta in versione assist man, sfonda sulla destra e imbecca il suo giovane collega di reparto Montagnoli, che a centro area non spreca e capitalizza di testa mettendo in ghiacciaia il risultato. Quindi ricapitoliamo al diciassettesimo della ripresa. Castelfidardo 4, Nero Stellati 2, Davide Montagnoli. Di qui in avanti la contesa non ha quasi più storia. Le due squadre continuano a darsi battaglia, ma senza più colpo ferire, anche perché le gambe iniziano ad appesantirsi e il punteggio è considerato ampio da entrambe le parti per poter essere mutato nel tempo che rimane da qui al triplice fischio finale. E così al novantesimo, Castelfidardo 4, Nero Stellati 2. Ottimo esordio dei biancoverdi con la loro nuova maglietta, che per la prima volta vincono il primo match della stagione e chi bene incomincia, si sa, è a metà dell'opera. A parte il primo gol subito, ottima prestazione della squadra di casa, che si è fatta apprezzare per l'impegno, le geometrie, la corsa e la rapidità delle azioni. La mano del mister si vede e la squadra lo segue. Bene così, durasse sempre. Gli ospiti devono rivedere la fase difensiva, troppe disattenzioni e leggerezze e poi ci vuole più propositività davanti. Ma i ceffoni possono pure fare bene, specie se presi da piccoli. Sicuramente l'approccio bene, però abbiamo commesso troppe errori individuali, in particolar modo soprattutto quando siamo andati in vantaggio. Nel primo tempo abbiamo gestito poco bene la palla, soprattutto nelle nostre uscite, erano troppo bassi e quindi concedevamo troppo campo, dovevamo andare attaccare troppo campo e quindi ci siamo un po' disuniti, però concedendo tra virgolette il giusto per una prima partita fuori casa. Abbiamo fatto una grande partita sotto il profilo sia agonistico che tecnico, visto che poi avevamo preso gol su degli episodi, soprattutto il rigore, potevano magari ammazzare qualsiasi squadra, invece noi abbiamo reagito da lì, abbiamo trovato proprio lo spunto per poi attaccare la partita. Si sono viste anche delle cose buonissime a livello tecnico, cominciamo a correre sempre in avanti e a leggere l'avversario, questa è la cosa che mi piace. Comincio a vedere la mia squadra e quindi sono contento. Grazie. Grazie.